Ciao a tutti, mi chiamo Saga e sono uno specialista di prodotto qui in LG. In questi video tratteremo gli argomenti principali alle vostre domande più frequenti. Oggi parleremo di come collegare il mio LG Gram alla mia TV. Ci sono due modi in cui puoi connettere il tuo LG Gram al grande schermo. Primo, usando una connessione via cavo. Se il tuo LG Gram supporta l'HDMI, puoi inserirlo direttamente dal PC alla TV. Una volta connesso premi semplicemente il pulsante di ingresso sul telecomando e seleziona la porta utilizzata. Da qui puoi scegliere di duplicare ed estendere lo schermo nelle impostazioni display del tuo LG Gram. L'altra opzione è tramite una connessione wireless. Per questo assicurati che sia la TV che il Gram siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Per controllare le impostazioni Wi-Fi sulla tua TV, prendi il telecomando e premi il pulsante delle impostazioni. Seleziona Impostazioni di rete e sarai in grado di vedere le tue connessioni Internet. Ora nelle impostazioni di accesso cerca il tuo Gram per la connessione wireless del display. Dovresti trovare l'elenco dei display wireless disponibili. Una volta visualizzato il nome del televisore, selezionalo e segui le istruzioni che vedi sullo schermo della TV. Ora sei pronto per visualizzare qualsiasi cosa sul grande schermo. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.